ehm sto pensando ad altri test che vorrei... oh cazzo li hai visti? a dest? si a nord dest? no io li vedo a dest? tu che cazzo hai visto? o forse... adesso stanno a nord dest? io c'ho 70 si più o meno insomma per strada stavano... prima erano proprio a dest però oh si stanno sparando per dirlo andiamo 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 veloce tanto di là eh stiamo sparando dove ci sono i camper e li sparono appena li vedo? no 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 questi i nostri sono morti ovviamente vabbè è tutta una grado di tutto ciò questi sono morti ma ci sono gli altri ci sono gli altri eh ah aia e ti ho detto... stai arrivando sta fuggiando là dietro di noi dietro di noi o a terra? bella dove è l'altro? qua oh gesù... ciao grande lo scala d'oro c'era che scazzi? madonna prendi le cose e scappa nella safe poi eh? sto prendendo robe... qua c'è un cecchino lo vuoi tu? no se lo vuoi... cioè io lo voglio però se lo vuoi tu prendilo si vabbè lo prendi diventato ma tutto se quel cecchino io non sopporto scappa 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 compane alfa oh c'è un cespuglio no? eh cespugli fa uno schifo e tanto anche se lo prendi... che stiamo passando in alto? nooo 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 in acqua seriamente io sto facendo il ponte e poi mi aveva la destra eh... arrivo anch'io io ho un mediglietto però non... cioè ho lasciato la beniglia ci veniva un po' di mattoni qua ah non ci muore qua? cioè non ci si fa danno qua? ma anche pensavo... dopo di essermi lanciato pensavo di essere fottuto no no? non è tanto bello ricordo che devi sparare al... cioè devi picchiare il puntino blu io prima non lo sapevo ah davvero? io non lo sapevo se lo fai... cioè se lo fai ti da... ma bello... io chiedevo ma è randomica sta roba e Gianfranco ha detto si si è randomica e me l'hanno detto dopo ai 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 mi stanno sparando a te stanno sparando? come c'è questo? si ne ho noccato uno ne ho noccato uno è uno v1 uno v1 lo sparando così non ti uccidono dove stanno? eh non so dove sia l'altro uno l'ho noccato sta dietro alle rocce di la a 210 no sta per strada a 230 che? ah eccolo sta a 255 si sta costruendo un fortino anche tu ma è lui non ha 10 granate è uno scar è Gesù però capisci ma chi culato è? oh grande ma è sculatissimo fermo fermo oh comunque l'ho ucciso da solo nonostante tipo mi avesse sparato due anni prima che lo notassi ma io non capivo dove erano e più che altro io non avevo visto che tu stavi salendo io non c'è la 210 allora gli ho sfumato le granate lì qui sto correndo a prendere le robe prima che finisca cioè prima che che cazzo sto dicendo? dopo 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 prima che arrivi da safe insomma vai vai ho c'è un launchpad però qua c'è un fucile raro eeeh simon vengo a prenderlo che ce la fai vieni che sta partendo in 10 secondi metto il launchpad o no? non penso ci servirà no? no è vero tanto è lentissima c'è un pompa strafiero di là però e niente c'è un pompon fiero sulla montagna se vedete quanta gente ci sarà mmm boh questa montagna oh salve ma lei troppo è proprio sulla montagna? mmm non lo so sa 120 com'è che la tua prima scala sta fluttuando? non pensavo fosse oh è assista assista sulla scala sinistra sulla scala sinistra quella che hai visto prima cazzo non mi racconto di non avere lo scar in mano è a zero vita ho avuto la cara in un altro di fianco ah bello bella mamma mia ho troppo potenza ho uno scar mi sto curando febbo vedi se quell'altro hit c'è la roba carina vado che bello sai quella è che sono andato a spararlo con lo scar avevo il cecchino in mano e le ho fatto un cristo quello ho mancato malissimo bello non aveva un cazzo proprio niente eh ma erano la stessa squadra o no? si 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 come è che questo hit aveva un bozzo di roba quello non aveva niente? è Gianfranco ah scusa beh eh eh io ora mi rubo le vende però eh non ce l'ho eh è caduto l'headrope però eh non so cosa è stava tipo a 120 eh qua forse sta eccolo 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 ah ok attento che ci può essere gente meno male che lei va però cioè vai 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 che ne ho? eh l'arma sta in lancia granata prendilo 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 io non lo voglio non mi piace lo odio ah boh quante munizioni ti servono? prendo 10 no sbagliato prendo 10 ho sbagliato di nuovo prendo 10 Gesù eh andiamo sulla montagnetta vai meno male che Silvio c'è eh eh ci facciamo meno male che Lilva c'è e moriamo tutti io ho il lancio quindi quando vuoi lanciamo dove l'hai fatto il tuo portino? eh ah dovevo farne uno mio? farne uno di fianco e ci metto poi troppo in mezzo serve nah anzi lo usiamo già adesso? non aspetta ho capito io li vedo i tizi ecco mi arrivo li sono a 67 adesso cadi vai stai venendo qua? fatti una scala di da me che possiamo lerdo arrivo no non posso uscire ok ok non posso uscire aperto dai voglio andare lì addosso a uscire lì eh sto arrivando vieni ti prego dai dai ci sei? ci sono ci sono vai non ho materiali tipo? a bocchia dove stanno? dove stanno? ok mentre ti possono sparare mentre cadi qualcun altro mi sta pushando o no? fanno andando sull'ail drop stanno andando bello salve oh ahahah 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 oh ehm è un problema no madonna oh c'ha amici eh dove sta l'altro? si c'ha amici io sul tetto sto andando perchè sono messa lì che cazzo sta avendo? non lo so ma come come faccio a costruire modo fiero? è ucciso che stanno sparando dei raggi non a noi no è il suo amico quindi non si sa è morto non è morto scherzo però non so dove sia oh è che vogliamo fare? possono te ce la facciamo a tornare dove stavo prima no penso c'hanno un fattile di raggi non so quanto c'è meglio ci stanno sparando ci stanno sparando esce esce si ma uno l'entato dico da solo poco oh la zona sta da noi più che da loro esprichiamoci a costruire di là ehi non stai troppo in zona c'è il nostro che cazzo ci fai? hai capito? ah ok si ho capito non mi ricordo dove era però mi porta amici è sulla montagna eh ah madonna ah no ce lo stanno distruggendo no ma che cazzo? no non ce lo possono distruggere è collegato all'altra scala però ci possono sparare si è perfetto lascia stare però se lo vedono cioè se continuano a sparare cazzo lo distruggiranno invece noi dobbiamo usarlo per ucciderli oh l'ho smesso l'ho smesso mi fai pochino arrivo cioè tipo così non le so fare le scale dopo cioè le devi solo spammare credo ok ovviamente sto semplicemente tenendo schiacciato madonna c'è un modro qui qua ah non arriva sulla montagna si ma noi dobbiamo ucciderli noi li uccidiamo se li fanno sull'ultro io ho il lancio granate se fanno sull'ultro ah no no li uccidiamo andandogli noi addosso bam vai ah dove stanno loro? qua è a sud est a dest anche si si ci sono ci sono no a dest stanno no a sud est ecco li li vedi? ecco li arrivo ci sono quasi eh uno lo buttò a terra anch'io l'altro oh mi sto prendendo uno scudo eh un attimo un attimo un attimo io sto prendendo pepo mi sono preso un cazzo di chag jag mi sto chiudendo dentro e mi sto curando bello vai sono in un cespuglio e in un portino dove sta il mio pompa? no non lo vedo mio pompo dove cazzo sta? no è ricominciato il chag jag sta ricominciando pepo è lol e adesso è finito no comunque niente io non li trovo il mio pompa quindi c'ho quello scazzo adesso c'è un altro si c'ho quello scazzo ma tu ce l'hai lo sca leggendario? si 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 pepo sai cosa dobbiamo fare? torniamo al launchpad quanto cazzo sono qui i launchpad? sono bellissimi in una partita hanno avuto i tre continuavo ad andare le avevo messi in tre posti in la mappa continuavo a spostarmi e lo so ma con l'hunchpad abbiamo già vinto senza no in automatico ma non so dove stanno e no e? cazzo stanno a da sti e bo bo niente l'hunchpad per adesso che palle si lo vedi? stanno sparando le inanate è da sti e bo 33 nel portino nostro ah bello e li spariamo da qua vai vai facciamo un giro e andiamo sul launchpad no e costruisci tutto oh la zona sta relativamente da noi oh sta comunque anche da loro secondo me sono due squadre io te lo dico si può essere perché ho visto uno sparare con lanciagranate e un cespuglio ah ecco si sono adesso noi andiamo su quello che sta sparando con lanciagranate ok? però potrebbe essere paradossalmente più difficile contro due squadre e lo so li vedi li vedi dove stanno adesso andiamo su quello che sta facendo i muri ah ok no no è una squadra una squadra? ok ci sta sparando da da là l'hai visto? basta hai rotto il cazzo? dai io ti costruisco tu vai tu fai roba no io pure sto costruendo il condannato dove sta lì? là dove sto il cazzo che ho visto ok li sto pucciando sola eh niente devi sparare le lanciagranate vai spanna spammare le lanciagranate eccolo? è morto è morto gg mamma miaoo siamo potenti aspetta fefo guardami no è stato divertente il lancio vado qui ah ma troppa potenza i lanciagran sono qui mannaggia solo che non sempre li trovi è stata una partita